Nel cuore della notte aveva mandato in fumo oltre un ettaro di vegetazione. Fortunatamente le fiamme non avevano danneggiato le tante abitazioni nelle vicinanze. Avendo agito nelle ore notturne, nessuno aveva notato nulla. Non si era accorto però che l'occhio delle telecamere di videoserveglianza del luogo lo avevano immortalato proprio mentre appiccava il fuoco e subito dopo si dava alla fuga. Ma un particolare, nello specifico, aveva tradito il piromane di Buseto Palizzolo. L'uomo infatti indossava la maglia di Superman mentre scappava via per le strade del paese. Grazie anche a quel particolare i militari dell'arma sono riusciti a risalire l'incendiario. L'uomo, un 67enne con precedenti, è stato dunque identificato e denunciato dai carabinieri di Buseto. Le indagini dei carabinieri erano partite subito dopo la denuncia asporta dal proprietario del terreno incendiato dal piromane. Per tutta l'estate i carabinieri sono stati impegnati per contrastare anche questo tipo di fenomeno che affligge nei mesi estivi il territorio della provincia trapanese e non solo. Resta da capire se l'uomo sia responsabile anche di altri incendi che si sono sviluppati nella zona all'inizio di agosto mandando in fumo diversi ettari di vegetazione. Grazie.